Ancora uno stato di agitazione nelle aziende abruzzesi. Stavolta ad incrociare le braccia sono stati i lavoratori della Johnson Controls Italia di Corropoli. Nel corso dell'assemblea dei lavoratori svoltasi ieri è stato dato mandato alla RSU di proclamare lo sciopero per la giornata di oggi. I lavoratori hanno organizzato un presidio dalle 8 alle 12 dinanzi ai cancelli del polo produttivo di Santa Scolastica. Alle ore 11 le stesse organizzazioni sindacali di categoria hanno indetto una conferenza stampa. Continuiamo ad essere sbigottiti, non capiamo assolutamente la logica della scelta dell'azienda di togliere la produzione sul sito di Corropoli. Tra l'altro riteniamo che è soltanto il primo passo quello di chiudere la produzione per poi dismettere completamente il sito produttivo. Qua c'è la paradossale situazione che la parte produttiva vuole toglierla mentre invece la parte ingegneristica vuole tenersela. Tant'è vero che nel frattempo sono aperte delle posizioni l'azienda sta assumendo nuove persone nella parte ingegneristica. Capiamo che è una situazione paradossale, che il profitto continua ad essere a mietere posti di lavoro. Lunedì abbiamo fatto un incontro con l'azienda ex articolo 9 del nostro contratto dove l'azienda di fatto vorrebbe far intendere che la colpa di non aver saputo intercettare e capire quella che era l'andamento è da parte sindacale delle lavoratrici e dei lavoratori. Ovviamente abbiamo rimandato al mittente con i fatti questa accusa assolutamente infondata nel senso che noi ci siamo incontrati l'11 ottobre con l'azienda e a domanda precisa l'azienda ci ha confermato che non sarebbero stati toccati i livelli occupazionali. Solo cinque giorni dopo il vicepresidente della multinazionale invece ci ha comunicato che avrebbero perso il 50% della forza produttiva, quindi una comunicazione a tradimento. Oggi siamo qui fuori, i lavoratori assolutamente non cederanno e questa è la dimostrazione, in presidio fuori all'azienda e continueremo con le azioni sindacali che adesso è l'unico modo visto e considerato che non ci sono delle leggi che consentano di fermare la multinazionale per mantenersi il posto di lavoro. Ovviamente questo è il primo step di protesta, ci saranno altri passaggi credo anche e soprattutto sui tavoli, quelli che contano. Sì, noi già il 16 di novembre abbiamo un tavolo convocato in regione a cui prenderà parte il Ministero. Ricordiamo che le procedure di licenziamento ancora non arriva formalmente, quindi stiamo percorrendo tutte quelle che sono le tappe necessarie per far tornare indietro la multinazionale e per guadagnarci dei tavoli di garanzia che sono e devono essere quelli istituzionali. La multinazionale americana, proprietaria dell'azienda, che produce sistemi di controllo e antincendio, ha comunicato nelle ultime settimane il licenziamento di oltre 60 lavoratori. In pratica il settore produttivo che poi sarà delocalizzato altrove.